Quello che mi piace di più dell'agricoltura è la creatività, lo stare con la natura, con cui crei qualcosa che alla fine puoi misurare e che ti lascia un enorme senso di soddisfazione. E' questo che mi piace. Ho lavorato in campagna tutta la vita e per me è come se fosse una seconda natura. Non siamo una grande realtà, piuttosto un'azienda agricola a gestione familiare. Quindi tutto quello che facciamo si ripercuote su di noi. Ci piace quello che facciamo e ne siamo molto orgogliosi. E questo dà ancora più senso a ciò che creiamo. Non si coltivavano mirtilli allora, quando mio padre iniziò qui 27 anni fa. Ma lui sapeva di volere fare questo. Sfortunatamente morì un paio di anni prima di riuscire a trasformare il suo sogno in realtà. Insieme al mio manager Paul abbiamo creato una coltivazione di 42 ettari e siamo felici di collaborare con Juice Plus, fornendo un prodotto di qualità. Noi viviamo qui e ovviamente consumiamo ciò che produciamo. Quindi siamo coscienti del fatto che i prodotti devono essere ecosostenibili. Non può essere altrimenti. Sarebbe inutile far uscire qualcosa che né voi né le vostre famiglie mangerebbero. Facciamo quanto in nostro potere per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, che poi si riflette su tutti noi. Vogliamo vivere in armonia con l'ambiente. Per noi è importante e lo è anche per i nostri clienti. I mirtilli contengono grandi quantità di antocianine, una caratteristica chiave nella nutrizione al giorno d'oggi, che chiunque cerca di introdurre nella propria alimentazione. La varietà che Juice Plus acquista da noi è la Ben Lear, una bacca di color rosso scuro contenente un'elevata quantità di antocianine e che richiede tempi di maturazione più lunghi. Iniziamo la raccolta solo quando i frutti sono pronti. Possiamo dire che si tratta di una produzione dedicata, che Juice Plus può utilizzare nei suoi prodotti, ritenendola meritatamente migliore per i suoi clienti. Dobbiamo quindi produrre un frutto di primissima qualità e solo al raggiungimento di questi livelli possiamo considerarci soddisfatti. Per questo la nostra principale preoccupazione durante l'anno è assicurarci che il prodotto finale dei nostri campi abbia le caratteristiche desiderate dai clienti di Juice Plus, che richiedono prodotti di elevata qualità. Per poter dire ai consumatori siamo certi che gli standard raggiunti sono quelli da noi richiesti. La terra va lasciata in condizioni pari o migliori a quelle in cui l'abbiamo trovata. Pensiamo di esserci riusciti e di poter trasmettere alle generazioni future un importante messaggio. Abbiamo stabilito uno standard. Ci aspettiamo che facciate di meglio. E' questo il nostro obiettivo. Grazie a tutti.